La Rizzo Calcio Femminile festeggia la sua prima maglia azzurra, un evento storico per la società maranto che grazie alla sua capocannoniere Costanza Razzolini timbrerà il cartellino nella nazionale sperimentale Under 23. Per Razzolini è infatti arrivata la convocazione ufficiale per lo stage congiunto dell'Under 23 con la nazionale maggiore che si radunerà al villaggio azzurro di Novarello dal 17 al 21 dicembre, quattro giorni di intensi allenamenti che si concluderanno con un test in famiglia tra la sperimentale Under 23 seguita dai tecnici federali Attilio Sorbini e Nazarena Grilli e la nazionale A del CT Milena Bertolini. La convocazione di Razzolini a un traguardo storico per la nostra società, dichiara la presidente Amaranto Chiara Tavanti, non vedevamo l'ora di poter vivere questo sogno ed è un grande onore per tutti noi poterlo vivere grazie a Costanza che in questa prima frazione di campionato si è rivelata un leader con tutti i crismi. Questa sua partecipazione al raduno di Novarello è infatti stata accolta con grande gioia anche da tutte le ragazze della squadra con le quali ci sta regalando un campionato da favola. Per l'attaccante Amaranto lo stage della prossima settimana è soltanto un nuovo tassello della sua avventurina azzurro dopo aver collezionato sei presenze tra le azzurrine dell'Under 17 nel 2016 Razzolini è stata inserita nella causa dell'Under 19 che ha preso parte all'Europeo di categoria in Slovacchia. Tra tutte le convocazioni avute in passato questa mi ha colto di sorpresa, commenta l'attaccante classe 97, questo è per me l'anno del riscatto, l'annata in cui mi ero prefissata di ripartire dopo un periodo in cui sul campo avevo avuto meno continuità. In questo momento sono ben concentrata sulla Rezzo e sul progetto che stiamo portando avanti e sono felice di questa convocazione.